ad albano laziale all'inizio di via saffi si incontra la porta pretoria che immetteva necastra albana accampamento di sentimio severo quasi in fondo alla medesima via c'è il cisternone un enorme deposito sotterraneo d'acqua che serviva il campo romano le volte della cisterna sono a cinque navate scavate nella roccia e sostenute da pilastri la capacità della cisterna è di 10.000 metri cubi in borgo garibaldi c'è poi un sepolcro costruito negli ultimi tempi della repubblica e chiamato la tomba degli orazzi e dei curiazzi poiché popolarmente si ritiene che vi venissero sepolti i soccombenti eroi del leggendario duello albano laziale è un comune della città metropolitana di roma capitale i cui abitanti sono detti albanensi è uno dei comuni più importanti dei castelli romani è il centro più animato commercialmente sede vescovile suburbicaria fin dal 400 storico principato della famiglia savelli e dal 1699 al 1798 possesso inalienabile della santa sede il territorio di albano è in parte incluso nel parco regionale dei castelli romani le prime testimonianze accertate di insediamento umano nel territorio comunale di albano risalgono al periodo laziale all'inizio del mille avanti cristo a quell'epoca risalgono i resti di abitati nel territorio circostante la presenza umana in questi siti seppur con segnali di spopolamento si mantiene anche nelle epoche successive mentre a partire dal periodo laziale dall'830 al 730 avanti cristo iniziarono a comparire tracce riconducibili alla fondazione della mitica capitale latina di alba longa ma la maggior parte degli storici moderni sembra orientata più a collocare il sito dell'antica alba longa a cavallo tra i comuni di marino rocca di papa ed a riccia sul versante orientale del lago albano ovvero dal lato opposto all'attuale città di albano nel territorio albanense all'epoca sottoposto in buona parte alla giurisdizione della ricca città di riccia sorsero diverse ville suburbane edificate dai più importanti esponenti del patriziato romano neo pompeo magno aveva una villa l'albanum pompei i cui ruderi sono stati rinvenuti all'interno dell'attuale villa doria panfili invece una villa appartenente al lucio a neo seneca sarebbe identificabile con i ruderi rinvenuti sul crinale meridionale del lago albano ai confini con il comune di riccia tutte queste residenze al tempo dell'imperatore domiziano vennero riunite in un unico fondo di proprietà imperiale l'albanum cesaris all'interno del quale il sovrano fece erigere una monumentale residenza imperiale i cui ruderi sono in buona parte contenuti nell'attuale villa barberini a castelgandolfo l'imperatore settimio severo attorno a 202 fece installare nel luogo dell'attuale centro storico di albano ai margini della tenuta imperiale domizianea la legge seconda partica nacquero così i castra albana gli imponenti accampamenti che rimasero in funzione fino alla fine del 200 dopo cristo attorno a 202 fece installare nel luogo dell'attuale attorno a 202 fece installare nel luogo dell'attuale attorno a 202 fece installare nel luogo dell'attuale